Ciao ragazzi e benvenuti finalmente in questo mini mini video Oggi ti mostro l'approccio professionale per generare profitti con le scommesse sportive Parliamo di un approccio che utilizzano i professionisti per guadagnare denaro con le scommesse in maniera professionale Questo video serve per mostrarti i miei risultati professionali sul mondo delle scommesse sportive Non è un incentivo assolutamente al gioco d'azzardo Ma è semplicemente un video dove ti mostro l'approccio professionale che utilizzo io per generare profitti reali E in maniera professionale ti ripeto con il mondo del betting Vediamo subito di cosa ti sto parlando Ovviamente ti parlo di tennis perché se mi conosci già sai che io opero per la maggiore su questa tipologia di mercato sportivo E sai benissimo che mi occupo di gestire e di aiutare le persone da tanto tempo a realizzare profitti con questo mondo Detto questo vediamo subito di cosa ti voglio parlare Ti parlo di un'operazione di mercato chiusa pochissimi minuti fa Parliamo del VTA di Bucharest che ha visto protagoniste oggi in questo match dei quarti di finale Irina Beku contro Laura Sigmund E ti spiego com'è possibile che ho realizzato questi profitti Perché ho impiegato un particolare stake di capitale E soprattutto quali sono gli aspetti che ho considerato per generare questi profitti Come vedi oggi ho operato su Bet365 perché come vedrai tra poco l'operazione che ho fatto Non si poteva fare altro che su un bookmaker diciamo così tradizionale Come dico sempre io quando devi operare in maniera professionale devi affidarti a bookmaker Che sappiano farti muovere sul mercato dell'exchange Però vediamo adesso subito cosa ho fatto Allora l'operazione è questa Prendo, l'aggiorno Quindi scommesse e concluse Ultime 24 ore Ho concluso due operazioni La prima è questa E Laura Sigmund vince il secondo set 6 a 2 Come vedi la puntata è stata di 10 euro A quota 17 Vincita 170 euro La seconda operazione che vedi qua sopra l'ho fatta successivamente Perché ero abbastanza convinto che la quota 5,50 Fosse una quota di valore E era un modo pratico e utile per concludere l'operazione di mercato Con quantomeno dei profitti Andiamo a vedere però perché ho fatto questa operazione di mercato Allora devi sapere intanto che la Irina Begu È una tennista che gioca al VTA di Bucharest Come vedi è una tennista romena Quindi giocava in casa Se andiamo ad analizzare i dati Che ci permette di analizzare Sofa score in merito all'andamento del primo e del secondo set Andiamo a vedere qualcosa di realmente interessante Che mi ha fatto pensare A quel 6-2 nel secondo set Andiamo a vedere insieme Come vedi l'Irina Begu stava vincendo 4-2 il primo set Breccando la Laura Sigmund Facendo così ancora l'Irina Begu Tiene il servizio addirittura a 15-5-2 Qui sembra il primo set finito Ma non è così Perché la Laura Sigmund cosa fa? Tiene il servizio Facendo un po' di difficoltà Poi brecca l'avversario Avendo ben due occasioni Due advance Poi Incredibilmente Diciamo quello che possiamo definire in gergo Un cappottone Fa 6-5 E chiude 7-5-40-0 Dove qui C'è stata una piccola interruzione Perché Che non puoi vedere dai dati Perché La tennista romena Si è fatta male A un dito E ha chiesto il medical timeout Detto questo Facendo Vedendo come è stato l'andamento Del primo set E osservando il match in live Mi sono reso conto Come ovviamente L'Irina Begu Che giocava in casa Con le tante aspettative Del proprio pubblico Che sa che questo torneo Si disputerà Per l'ultima volta A Bucarest Le aspettative Dei telespettatori Erano state Completamente deluse 7-5 La tennista è demoralizzata Parliamo di psicologia Si vedeva chiaramente Osservando il match In live So che la Laura Sigmund È una brava tennista Su questa superficie È molto ostica Su questa superficie È in grado veramente Di creare problemi Se gioca Bene A chiunque E andiamo subito A vedere cosa succede Nel secondo set L'Irina Begu Nuovamente si porta Un break avanti 2-0 Sfruttando subito Una palla break Qui Mi viene da pensare Che Penso chiaramente Che Posso succedere Un po' quello Che è già successo Nel primo set Visto che Già è sotto Di un set E psicologicamente Non mi dà Segnali di solidità mentale Poi Se osservavi Come erano arrivati Questi punti Ti rendevi conto Del come Laura Sigmund Non li avesse Totalmente Giocati Questi punti Andiamo a vedere Cosa succede Io Vedo Praticamente Con questo Advance Secondo Advance Terzo Advance Mi convinco Sempre più Che la possibilità Che la Laura Sigmund Completi Completamente Di nuovo Una rimonta Senza fare Assolutamente Un break All'avversaria Visto che Vedevo Laura Sigmund Molto in fiducia Molto in forza E determinata A lottare E vincere Ogni punto E questo lo potevi vedere Solo guardando il match I dati Questo non ti permettono Di vederlo Ecco Con queste tre Palle e break Io mi convinco Che è il momento Di giocare Quel 6-2 Infatti riesce a conseguire Il break E sul 2-1 In questo momento Storico Diciamo Della partita Io gioco Il 6-2 E lo faccio Così Come hai visto Da qui Ho giocato A 10 euro A quota 17 Per un profitto Di 170 euro Ok Ma perché faccio Questa operazione Perché punto 10 euro Perché il mio masa Mi dice Sono bene al quarto step Di un masa 1 su 14 A quota 350 Tieni bene a mente Questo aspetto Mi dice di puntare 9 euro e 97 Non essendo ovviamente Su Betfair Dove posso Operare Con Seguendo I decimali Succede Che praticamente Opero per eccesso E metto 10 euro Io sono al quarto step Ho perso Il primo Il secondo Il terzo Il quarto step Mi dice Di operare A quota 350 Con uno stake Fisso di capitale A 9 euro e 97 Io prossimo per eccesso Gioco 10 euro Gioco 10 euro A quota 17 Ma perché gioco A quota 17 Questi 10 euro Perché per me Questa quota 17 È una grandissima Quota di valore I miei strumenti Mi dicono Che è una quota Di valore Per me Era una quota 11 E quindi Decido Di operare Su questo Su questo Risultato Come dico sempre I professionisti Operano Servendosi Dei bookmaker Migliori Operano Servendosi Dei mercati Dell'exchange Ma operano Soprattutto Lavorando Sulle quote Di valore E questa Era una grandissima Quota di valore Qui dopo A 5.50 Opero La seconda bet Perché La seconda serve Sul 5.2 Andiamola a vedere Serve sul 5.2 Eccoci qua Subito Serve sul 5.2 E Eccoci qua Scusami E Io Dico Può darsi Che abbia un momento In cui Vacilli Anche perché La sua avversaria L'arena Beko Giocava Tutti i punti Anche perché Giocando in casa Si è demoralizzata Ma doveva Quanto meno Far vedere Ai Agli spettatori Che rimaneva fedele Alla partita E al proprio pubblico Quindi Così Vado a giocare Il 6 A 3 Eccolo qua A 5.50 Perché anche qui Reputo il 5.50 Una quota di valore Per me questa era una quota Per lo strumento Per me Quindi Era una quota Che Era massimo 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 3.50 5.50 Allora ho avuto un regalo Entro Ovviamente ho generato un profitto Con queste due operazioni Di 150 Detto questo Volevo solo mostrarti Un approccio professionale Io Per quanto riguarda Il money management Uso Combino Più money management Quindi non uso Solo questo 1 su 14 A quota 3.50 Detto questo Questa precisazione È doverosa da fare Ma che comunque Questo masa 1 su 14 A quota 3.50 È un masa Professionale Fatta questa precisazione Ti invito Mi raccomando a lasciare like al video se ti piace E mi raccomando iscriviti al canale youtube Perché vedrai tanti altri video Molto più approfonditi di questo E ti mostro Come opero io sui mercati Qual è l'approccio professionale Per generare profitti Sui mercati sportivi Del tennis Del calcio E del betting in generale Ti saluto E ti rinvio Ai miei prossimi video